buongiorno a tutti buona settimana io sono francesco vorgonovo questo orso bruno la striscia quotidiana libio blu che va in onda tutti i giorni e che così si occupa dell'attualità in un modo un po diverso mi avete scritto in tantissimi in questi giorni poi leggerò alcuni dei vostri messaggi sono veramente tanti però voi continuate a mandarli perché se riusciamo li leggiamo tutti diamo ovviamente risposte a tutti quelli che ci hanno mandato un'email vi ricordo l'indirizzo orso bruno chiocciola bioblu.com siete davvero tantissimi quindi abbiate pazienza però un po alla volta insomma li leggo li leggo tutti oggi però prima di andare la questione delle mail alcuni problemi anche molto interessanti che voi sollevate in realtà alcuni riguardano quello di questo per parlare volevo soffermarmi su un dibattito che è iniziato nei giorni scorsi con le elezioni dei due presidenti della camera ignazio la russa e lorenzo fontana ovviamente entrambi provengono da storia di destra piuttosto marcata sono stati accolti come io mi aspettavo con una levata discuti molto feroce devo dire più fontana che la russa per un motivo molto semplice perché fontana è considerato il grande nemico della delle coppie gay degli omosessuali anche se ripeto non mi risulta l'ho già detto in altra sede ma lo ripeto qui non mi risulta che fontana abbia da ministro della famiglia preso qualche provvedimento che andasse contro le coppie omosessuali in senso persecutorio anzi c'è una feroce nei suoi confronti motivata da alcuni col fatto che fontana sarebbe un ultra cattolico definizione che secondo me non ha molto senso cioè così cattolico o non lo sei ecco qual è il punto il punto che questo paese si parla tanto questa nazione purtroppo diventata un paese si parla tanto di diritti no si fanno tante battaglie con sui diritti e alla base dell'odio che si è sollevato contro fontana e contro altri ci sono sempre questi benedetti diritti diritti che sono stati definiti per lo più da alcune minoranze che hanno deciso loro che cosa siano i diritti non se ne può parlare non normalmente per decidere cosa un diritto se ne parla all'interno di una comunità di una nazione si si discute in parlamento il parlamento per esempio ha bocciato il ddl zan che non era mio parere una norma che aggiungesse un diritto in più alla popolazione omosessuale italiana semplicemente attivava delle norme che punivano di controllo del linguaggio punivano che diceva cose un pochino così fuori dal dal mainstream arcobaleno si parla tanto di diritti e questi diritti motivano delle volte dicevano odio feroce le accuse di omofobia di intransigenza di razzismo si sprecano no si fanno tante battaglie su questo si fanno tanti programmi televisivi tanti articoli sui giornali e ogni volta anche se non dovrei stupirmi ogni volta mi stupisce l'odio che manifestano certe minoranze che invece si riempiono la bocca come con parole come amore rispetto tolleranze invece odiano ferocemente su fontana abbiamo letto delle cose terribili mi colpisce un'altra cosa che riguarda la sinistra istituzionale qui abbiamo di fronte una destra che è una delle destre diciamo più istituzionalizzate per certi versi più normalizzate di sempre cioè non c'è Gianfranco Fini che quando esordì al fianco di Berlusconi negli anni 90 non era esattamente quello che abbiamo conosciuto con Fare Futuro non ci sono Bossi e altri che usavano toni molto forti non ci sono posizioni più estreme come potevano essere quelle a suo tempo di Pino Rauti o di forza nuova o di altre formazioni che in qualche modo sono entrate nelle istituzioni anzi curiosamente abbiamo una destra che sulla politica estera sostiene praticamente quello che sostiene il partito democratico riguardo ad esempio la guerra in Ucraina le dichiarazioni di filoatlantismo ai rapporti con la Russia cioè il partito di maggioranza che è una notevole maggioranza perché il 26 per cento rispetto agli altri due o forse viste le cose dovremmo dire uno della coalizione è chiaramente filo filo ucraino l'ha detto l'ha ribadito e quella cosa è trasparente è filo americano gli altri partiti hanno votato tutte le finanziamenti all'Ucraina tutto quello che c'era da votare sul tema su altre questioni ad esempio quelle banalmente riguardanti altre faccende diciamo legate al covid beh lì abbiamo due partiti su tre che stavano dentro il governo precedente hanno votato tutto quello che c'era da votare anche lì pur con alcuni malumori interni nella Lega il deputato Claudio Borghe ad esempio e altri i bagnai insomma hanno fatto sentire la loro voce è però ampiamente compensate queste voci diciamo così fuori dal coro da poi la ferocia con cui invece Forza Italia si è scagliata contro i non vaccinati e quindi abbiamo una destra assolutamente in linea con tante istanze del mainstream e nonostante questo nonostante questo e nonostante i discorsi che ha fatto Ignazio Larussa che ha detto addirittura che voterà andrà a festeggiare il 25 aprile nonostante questo ci sono degli attacchi incredibili e questi attacchi arrivano proprio sulla questione dei diritti e a me viene il sospetto che si parli tanto di questa questione perché è l'unica che un po' formalmente sulla carta differenze i due schieramenti che per il resto sono obbligati no perché anche se la destra volesse tenere un certo tipo di posizioni più filo italiane dico io ad esempio sulla gestione dei rapporti internazionali no riguardo alla guerra in Ucraina o la problematica energetica beh in quel caso insomma verrebbe pesantemente ostacolata sono già iniziate prima le minacce i pizzini le agenzie di rating parlavano quindi i diritti sono rimasti l'unico punto su cui si discute anche se in realtà pure qui nessuno al governo vuole cambiare la 194 nessuno no parlare di aborto nessuno ha proposto fino adesso cose tipo quella fatta in Piemonte per finanziare le madri in difficoltà economica che non vogliono abortire lo stanziato 400 mila euro che li si sentono assalti da ogni parte quindi anche sulla questione dei diritti in realtà si hanno votato contro il DDL ZAN ma a parte che c'era pure da sinistra c'erano voci molto decise contro il DDL ZAN e ho detto sovrapporre il DDL ZAN ai diritti della minoranza LGBT è un'operazione in cattiva fede secondo me e quindi anche da quel punto di vista non vogliono cambiare assolutamente nulla e dunque io ho il sospetto che si tratti di una grande come dire schermatura no di un gioco delle parti che bisogna fare un gioco delle parti che ovviamente giova molto in questo momento alla sinistra e qui arriviamo a un altro punto allucinante che è successo negli ultimi giorni proprio della settimana scorsa nel fine settimana è che la questione del dibattito sul razzismo che ha riguardato Paola Egonu la pallavolista molto famosa molto brava che è stata la nazionale italiana e lì abbiamo l'apice della dissociazione dalla realtà di questo mainstream che purtroppo ripeto fa vittime a destra come a sinistra ne fa più a sinistra perché lì c'è un'adesione totale ma guardate che anche adesso insomma ne sta facendo tante e per capire quanto sia il reale questo mainstream basta guardare questa storia allucinante che riguarda la pallavolista per farla prima cosa succede? Succede che la Egonu va ai mondiali nei Paesi Bassi insieme alla nazionale si aspettano di arrivare prima e perdono male contro il Brasile, la Egonu non gioca granché bene poi vincono contro gli Stati Uniti e arrivano terza alla fine della partita con gli Stati Uniti la Egonu va dal suo manager molto arrabbiata e dice insomma questa è l'ultima partita che farò con la nazionale addirittura mi hanno detto e mi hanno chiesto se sono davvero italiana o una cosa di questo genere ovviamente scusate immediatamente è diventata una questione di razzismo è esploso il grande dibattito sul razzismo c'è gente come Urla Jebreal che ha scritto vedete arriva il governo di centrodestra che non c'è arriva il governo di centrodestra dice Urla Jebreal mettono un nazista alla presidenza della Camera Fontana cattivissimo e subito cominciano le defezioni l'atleta italiana Paola Egonu se ne va per problemi legati al razzismo di nuovo riescono intervengono Letta, interviene Conte, intervengono tutti Letta peraltro sbagliando il nome della Egonu scrivendo Enogu poi se ne è accorto e in maniera un po' triste ha cambiato è una faccenda veramente davvero grottesca però emblematica di come qui si gestisca veramente il dibattito riguardante i diritti continuiamo a parlarne fra un secondo rieccoci sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno, la striscia quotidiana di Bio Blu fra un po' leggerò alcuni dei tantissimi messaggi che sono arrivati in questi giorni non riuscirò a leggerli tutti ma ci proverò e comunque continueremo a leggerli anche quelli arretrati diciamo così nei prossimi giorni tanto ci siamo qui tutti i giorni quindi potete scriverci quando volete ascoltarci quando vi piace stavamo parlando dei diritti e stavo dicendo così in grande sintesi qui abbiamo una destra che è estremamente moderata da tanti punti di vista estremamente allineata da alcune posizioni del mainstream nonostante questo viene attaccata ferocemente dalla sinistra a prescindere dalla realtà cioè non c'è ancora un governo a noi già li stanno attaccando la questione della presidenza delle camere ha scatenato l'inferno e curiosamente questo dibattito avviene sempre sui diritti e viene sempre sui diritti perché poi quando si parla di economia quando si parla di politica internazionale in realtà anche per vedere quando si parla di diritti e poi le scelte non è che siano molto diverse no quello c'è un campo all'interno del quale bisogna stare dei binari tracciati all'interno del quale la nostra politica deve stare pena essere attaccata la sinistra aderito ormai da anni a questo modello si sta cercando di far centrare a forza la destra che con qualche resistenza insomma si spera che non ci entri però per tanti versi c'è già entrata alla grande e c'è questa vicenda emblematica dicevo di della pallavolista e gono che secondo me rappresenta il livello pessimo del dibattito sui diritti in italia il dibattito sui diritti è una cosa estremamente seria no come quanto le minoranze devono avere spazio come vanno gestiti gli ingressi di stranieri come vanno gestiti i cosiddetti nuovi italiani come bisogna regolarsi su alcune richieste della popolazione omosessuale riguardo le adozioni riguardo appunto la possibilità di crescere ed educare dei figli sono questioni e poi ancora di nuovo per perché a che fare con questo quel tema dei diritti la biopolitica il possesso del corpo quali farmaci possiamo prendere quali possiamo rifiutarci di prendere sono tutti temi centrali che regoleranno il nostro futuro molto più di altri discorsi di più bassa lega e vengono affrontate ogni volta come come una rissa come una rissa in cui si prescinde completamente dalla realtà il dibattito sul razzismo quello più clamoroso perché in italia il razzismo non c'è non dico che non ci siano i razzisti ci sono sacche residuali di razzismo come ci sono dappertutto in tutto il mondo però noi abbiamo importato dagli stati uniti una serie di posizioni non le ha importate la sinistra però la sinistra poi domina per lo più comunque il mainstream liberal domina per lo più i mezzi di comunicazione quindi si parla di quello e si parla di un dibattito che in italia non ha il consenso negli stati uniti si discute di razzismo sistemico ma gli stati uniti ricordo hanno avuto la segregazione raziale qui non c'è mai stata alcuna segregazione raziale non c'è stata mai neanche l'importazione di schiavi nelle piantagioni è un livello completamente diverso di storia non c'è il la sofferenza della comunità africana che abbiamo che che invece si vede negli stati uniti cieli sta parlando discendenti di schiavi qui questa cosa questa roba non c'è stata però si importa questo discorso del razzismo sistemico che in realtà è una forma di razzismo secondo me culturale veramente feroce e quindi si cerca di vedere razzismo dappertutto per poter dire visto colpa dei sovranisti cattivi i quali i sovranisti delle volte giocano traguano giovamento da questo dibattito perché possono far vedere hanno visto noi siamo quelli attaccati da tutti in realtà poi non si risolve mai niente perché si continua a parlare di questo gli immigrati continuano ad arrivare questo sistema viene alimentato chi prova a fermarlo va rischia insomma grosse difficoltà vediamo il caso di salvini che su quello insomma l'aveva promesso aveva tenuto fede alle sue promesse ma minniti ancora prima insomma e quindi lì nel caso della pallavolista che succede che lei si sfoga col suo manager alla fine della partita con gli stati uniti dice questa è la mia ultima in nazionale poi già nel giro di poche ore insomma scende la tensione finita la gara cambia tono dice no ma vediamo adesso bisogno di un po di pausa e si scopre che in realtà si capisce che in realtà lei non è che stesse lamentando un episodio di razzismo in particolare infatti non risulta che ce ne sia stato uno semplicemente era stanca di sentirsi dire sempre dare la colpa delle sconfitte più o meno insomma molto semplificando così e del resto lei stessa che sia molto esposta no sui giornali anche raccontando cose personali è molto giovane ci sta che lo faccia purtroppo questa cosa delle volte come sa chiunque sia esposto delle volte anche dei lati molto negativi e delle volte sono pesanti da affrontare no si soffre la visibilità è difficile da gestire quindi ci sta che una ragazza una sera insomma si arrabbi quasi in lacrime si sfoghi no però tutta la vicenda viene ridimensionata da lei stessa dal suo manager dalla federazione di pallavolo tra l'altro si era parlato già da tempo di problemi dello spogliatoio incredibilmente la politica finge che tutto questo non sia mai avvenuto comincia a commentare la poltrini conte letta poi arrivano a ruota i servetti no del potere e per l'urage ebreale questo quell'altro che twittano il razzismo in italia visto adesso c'è il governo di centrodestra c'è praticamente c'è ci sarebbe secondo loro un ritorno del razzismo no immediato dovuto all'arrivo di un governo che ancora non si è formato e forse magari manco si forma se non si mettono d'accordo quindi capite il livello cioè di totale assenza della realtà la realtà non c'è qui non è importante non conta cosa è accaduto davvero non conta che siano siano stati smentiti l'addio la nazionale siano stati smentiti le cose di razzismo non conta niente conta insistere su questo parlare di diritti parlare di diritti che sono già garantiti nel nostro paese legono infatti e a partire la minoranza lgbt pare che abbia una finanzata se ho capito bene di cui ha discusso anche sui mezzi di comunicazione e su tutte le copertine riviste è stata portabandiera dell'italia agli olimpiadi di tokyo sta in nazionale dove sta il problema dove sta questo razzismo sistemico che le impedisce di fare quello che vuole non c'è poi ci saranno gli insultatori gli odiatori ci sono sempre se non citta che perde tempo a insultare me figuriamoci se non insultano la pallavolista che è famosissima tanta più fama tanti più insulti purtroppo sono difficili fanno schifo sì è vero siamo tutti d'accordo ma razzismo sistemico un'altra cosa e questo è il falso dibattito sui diritti che non porta da nessuna parte che divide in due gli italiani fra quelli che sono buoni cioè seguono quello che dice il mainstream ovvero che bisogna avere una società multiculturale bisogna accontentare tutte le stanze lgbt compreso non sono utero in affitto oppure se proibito dalla legge bisogna fare il lavaggio del cervello la gente perché altrimenti si permette di avere delle opinioni diverse su come deve essere il nuovo mondo paradisiaco disegnato dall ideologia liberale e tutte queste cose questa cosa questa divisione fra buoni cattivi alimenta un odio feroce nei confronti di chi la pensa diversamente si tenta di silenziarlo e le posizioni cosiddette estreme vengono eliminate dal dibattito o consegnate a chi ai mostri cioè se tu sei un pazzoido un po strano loro puoi dire cose cose che ti fanno dire le tue cose da pazzoide non ti tolgono la parola non c'è la censura vera e propria c'è l'emarginazione e chi prova a dire certe cose in maniera seria documentata senza odio senza razzismo viene attaccato a sua volta in questo modo non si parla seriamente dei diritti la questione dei diritti offusca tutte altre questioni centrali sul tavolo l'economia la questione veramente della risoluzione della guerra si perde un sacco di tempo dividersi come se esistessero ancora le divisioni novecentesche e alla fine da tutto questo casino che cosa esce che tutti minoranze comprese sono vessati allo stesso modo me sembra veramente pietoso e temo che insomma viste le avvisaglie non non cambierà niente anche prossimamente io spero che almeno qualcuno di voi che mi ascolta e ce ne sono tanti li ringrazio ringrazio banda che che ci ascolta e ringrazio ringrazio emi che ci manda insomma tanti tanti auguri maurizio che ci dice il bisognerebbe elencare il governo dovrebbe elencare insomma entrate uscite pubbliche dal comune allo stato sono l'enorme trasparenza ancora dark ship che manda tante riflessioni sono molto lunghe poi le leggeremo più tardi nelle prossime puntate renzo che parla della commissione parlamentare sui vaccini e non ha grande fiducia neanche lorenzo insomma temo che non andrà proprio benissimo speriamo speriamo bene vedremo ma noi vigileremo non ti preoccupare ivano grazie anche tu del sostegno raffaele e ci parla della fondazione del corpo forestale dello stato anche questo lo leggeremo con calma rossana che ci ringrazia rossana fossato un grande abbraccio anche a te tina davanzago e ci ricorda all'anniversario del green pass obbligatorio fa venire i brividi lei è una di quelle che sono battute contro questo schifo e lei ne ringraziamo ce ne sono tantissime luca belotti emilia marina grazie grazie veramente tutti leggiamo tutte le mail una per una cercheremo di rispondere laddove e chi ci manda il sostegno anche se non vi citiamo capiterà magari che qualcuno ce lo dimenticheremo può succedere cercheremo di non farlo ma insomma staremo attenti chi ci manda il suo sostegno grazie vi teniamo nel cuore ne abbiamo bisogno proprio perché si parla del nulla ma l'odio in giro e tanto anche contro di noi alla prossima grazie a tutti